Tre punti importantissimi penso è una vittoria della squadra, abbiamo sofferto ma abbiamo fatto una gran partita e penso che alla fine i nostri sforzi collettivi siano stati raggiunti tramite la vittoria e siamo contentissimi. È cambiata sicuramente la fiducia che mi è stata data dalla società e dal mister e poi penso sia cambiata anche la testa ed è cambiato comunque che ho lavorato un anno con questi ragazzi fantastici, con il mister che è top secondo me e quindi sono migliorato. Era una stosta meritata, sì dopo questo tutto è forse un paio di giorni liberi ci stanno. Siamo la difesa migliore però non solo la difesa, siamo la squadra forse perché difendiamo in 11, non è che difendiamo in 4 quindi questo è merito anche degli attaccanti che ogni partita danno tanto anche in fase difensiva.